Secondo un recente studio americano, due ore e mezzo alla settimana di attività sportiva sono determinanti per la buona salute e la prevenzione di tumori e malattie degenerative. Partendo da questo dato, il presidente del CONI Toscana, Salvatore Sanzo, ha tracciato un bilancio del primo anno del suo mandato, finalizzato soprattutto a riallacciare i rapporti con le istituzioni da una parte e le realtà sportive dall'altra. Il significato vero è che dobbiamo essere sempre di più il vero interlocutore del movimento sportivo e quindi essere riconosciuti da tutti come il soggetto istituzionale che può dare un contributo importante al movimento sportivo e quindi anche nei confronti dei dirigenti sportivi e quant'altro. Il progetto di Sanzo quindi andrà avanti moltiplicando le iniziative di ascolto, confronto e formazione in tutte le province. Il CONI Toscana sarà poi trasferito in una nuova sede fiorentina, probabilmente un immobile dell'ente cassa di risparmio in via Varacca, più adatto ad ospitare una casa dello sport in cui riunire tutte le federazioni sportive e attivare una scuola regionale per dirigenti e allenatori. E poi c'è l'educazione motoria. Noi dobbiamo entrare nelle scuole, dobbiamo farlo con sempre più forza, il progetto di alfabetizzazione motoria insieme al Ministero dell'Istruzione è sicuramente utile, ma dobbiamo implementare questa attività e credo che il CONI in questo senso abbia già dato delle indicazioni e comunque debba essere ancora più capofila rispetto a questi progetti. Un altro fronte aperto è quello degli impianti sportivi. In Toscana sono circa 5.370, uno ogni 1.060 abitanti, ma la nota più dolente restano le palestre delle scuole, decisamente insufficienti.